27 buyers esteri sono giunti a Sapri per scoprire i territori delle terre del bussento. Gli operatori turistici provengono dall'Argentina, dalla Cina, dalla Francia, dalla Lituania, dal Messico, dalla Norvegia, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Repubblica Ceca, dalla Spagna, dalla Svezia e dagli Stati Uniti. Tutti esperti di incoming e del settore termale. L'iniziativa si colloca all'interno dell'Educational Tour organizzato dall'Associazione Cilento Autentico DMO, in collaborazione con la BMT di Napoli che si sta svolgendo in questi giorni. Dopo la visita di oggi pomeriggio alla Certosa di Padula, altre visite previste anche a Palinuro, Marina di Camerota e Pisciotta. Si tratta di un'occasione per una possibilità di incoming che copra una fetta di turismo estero e non soltanto nazionale o di prossimità, ha affermato Amalia Morabito, assessore al turismo e dalla cultura del comune di Sapri, che ha scoperta dei luoghi individuati, saranno accompagnati da Ambra Scarpitta, guida esperta e dagli interpreti al seguito della comitiva. Prevista anche una degustazione di prodotti enogastronomici delle terre del Bussento. Un importante momento per le nostre zone, che riescono a mostrarsi ai buyers ospiti grazie al lavoro di Marco Sansiviero, presidente di Fena il Turismo e dell'Associazione Cilento Autentico DMO, ispiratore di questo progetto e di altre iniziative in ha sottolineato Matteo Martino, presidente dell'Associazione Terre del Bussento e curatore delle attività programmate.